Musica No, forse non mi sono spiegata Allora, siamo in ritardissimo tra 20 giorni La primavera e abbiamo ancora l'allestimento dell'inverno Eh sì, ma certo Dobbiamo chiamare il visual merchandiser Cioè, non possiamo continuare a stare così Siamo in ritardo, siamo in ritardo No, 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 aspetta un attimo Aspetta un attimo No, allora, che stanno va di... Allora, lasciamo, se è l'allestimento di Chistamon Andiamo pure anche i cappotti quelli della collezione scorsa Sì, sì, sì Sì, sì, li vendiamo, li vendiamo, assolutamente, li vendiamo Musica